I pazienti che si sono rivolti in questi ultimi giorni al centro unificato di prenotazione degli ospedali di Crema, Ona e di Crema, chiedendo l'appuntamento per un ecodoppler, si sono trovati di fronte a tempi lunghi, di un mese e più, malgrado l'urgenza relativa indicata dal medico di base. In questi casi, dopo tre giorni, l'urgenza scade e sono malati di 70-80 anni, con problemi di circolazione sanguigna. Altri hanno chiesto un piccolo intervento chirurgico, come una signora di Crema, che non è più in grado di camminare. Anche lei è stata invitata in una casa di cura convenzionata. Altri ancora temono di avere un tumore al collo, ne vogliono fare un esame senza potersi avvalere però dell'ospedale. L'elogio della sanità pubblica, visti i risultati della pandemia, si ripete continuamente di questi tempi, ma il pubblico è costretto a delegare al privato per mancanza di personale e di mezzi in seguito alle scelte di Regione Lombardia e dei governi. La politica, in compenso, a Cremona e a Crema, discute solo di futuribili nuovi ospedali. Affiorano voci però come quella di Pier Giuseppe Bettenzoli, di Rifondazione Comunista, che sostengono ben altro tipo di investimenti per potenziare le attività di prevenzione e di cura sul territorio, valorizzando i lavoratori della sanità pubblica. Tutto ciò che riguarda la prevenzione ad ogni livello, da quella sul posto di lavoro, sicurezza e salute, a quella per esempio anche solo dei consultori che vanno rafforzati. La medicina di base, la medicina territoriale, l'intervento infermieristico, l'assistenza domiciliare. Io credo a questo tipo di medicina. I medici, in questi casi, sono stati quelli che vengono definiti degli eroi, ma hanno pagato un prezzo durissimo per svolgere la loro funzione. Perché non avevano neppure i mezzi per farlo, le cose elementari. Qui parliamo di buttare via decine, centinaia di milioni e i medici e gli infermieri non avevano le mascherine. E non ne parlo così per parlare. Io ho un morto in famiglia, mio zio, che è in una casa di riposo. E nella prima fase gli operatori sanitari non avevano neppure le mascherine, non hanno fatto i tamponi né agli operatori sanitari né ai pazienti. Allora rafforziamo non le strutture fisiche di edifici, ma rafforziamo le persone, la medicina territoriale di base. Grazie.